Dopo aver definitivamente constatato la mummificazione della tv via etere, ho deciso di dare comunque una utilità a questo pannello nero di plastica, trasformandolo in un monitor per smartphone, ovviamente al risparmio sperando che il vetto, chi risparmia spreca, sia falso. Per un terzo del prezzo di Chromecast ho preso un clone cinese che dovrebbe consentire in modo dignitoso il mirroring del display dello smartphone o lo streaming diretto dei contenuti, entrambi in Full HD, anche se sulla confezione appare un 4K messo a caso. La differenza sostanziale tra mirroring e streaming è che il display e l'audio vengono clonati quando si usa il mirroring, mentre si avvia una trasmissione audio-video indipendente quando si usa lo streaming, con il vantaggio notevole di poter contemporaneamente continuare ad usare il cellulare per altre attività. Dopo aver collegato l'aggeggio alla tv tramite HDMI e cavo USB dal quale prende la alimentazione, connettere lo smartphone alla rete indicata sulla schermata di benvenuto visualizzata sulla tv con la password anch'essa IV visualizzata, dallo smartphone digitare sul browser l'indirizzo IP sempre indicato sulla schermata di benvenuto, apparirà un semplice pannello di controllo dove bisognerà connettersi alla rete del router, attivare la modalità mirroring e streaming e riavviare. Installata un'app per gestire il DLNA tipo X-Cast si sarà in grado di mandare in streaming qualsiasi cosa mentre per il mirroring basta attivare la funzionalità nelle impostazioni di Android. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, il mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.